Con la simbolica cerimonia di consegna dell'attestato e della bandiera al sindaco Sabatino Farese, Frosolone è entrata a far parte ufficialmente del circuito dei borghi più belli d'Italia. Un altro tassello che si aggiunge a quel progetto di promozione turistica del territorio che negli ultimi anni ha fatto registrare incoraggianti progressi. Non a caso sul comune molisano già da qualche anno sventola anche la bandiera arancione del touring club. In effetti completa un pochino l'azione che abbiamo intrapreso negli ultimi anni e di posizionare il nostro comune sotto il profilo turistico a un livello abbastanza diciamo elevato nel senso che abbiamo lavorato in questi anni per mettere a punto un prodotto turistico e posso dire che ci siamo riusciti perché anche con il coinvolgimento delle associazioni ce ne sono diverse che gestiscono i vari musei pure si è creata un'associazione per quanto riguarda la gestione della montagna quindi che riesce ad assicurare tutta una serie di servizi al turista. Abbiamo messo a punto questo prodotto però la necessità era di collocare questo prodotto in un ambito molto più vasto, un ambito di carattere nazionale. L'ultimo riconoscimento non fa altro che confermare la bontà delle strategie messe in campo per far conoscere al di là dei confini regionali il bello e il buono che questa terra sa offrire. Ed è un momento diciamo importante perché si fa di tutto per far conoscere il territorio, per dare l'opportunità a gente che viene e per apprezzare se il territorio sia la parte bella del nostro territorio e la parte più importante e quindi lasciare anche qualche beneficio economico per la popolazione. Durante la cerimonia organizzata nell'aula consigliare è stato anche presentato il nuovo sito turistico del comune di Frosolone destinato ad avere una buona visibilità proprio grazie all'ingresso nella famiglia dei borghi più belli d'Italia. In effetti entrare a far parte di questa associazione composta da circa 200 comuni italiani non significa semplicemente freggiarsi di un simbolo ma di entrare in un circuito promozionale di ampio respiro, ha ricordato il direttore nazionale Umberto Forte. Considerate che noi abbiamo una guida che ogni anno va in edicola e in libreria, ne vendiamo intorno alle 40-50 mila copie l'anno, abbiamo un sito che viene gettonato da 1.300.000 persone che rimangono proprio nel sito dai 5 ai 6 minuti quindi vuol dire far conoscere tutte queste nostre realtà. E poi abbiamo dei rapporti molto stretti con l'Enit, con il Dipartimento del Turismo per cui andiamo spesso all'estero, attualmente il Presidente è a Mosca per la MIT e quindi tutto questo vuol dire far conoscere tutte le nostre realtà, questa Italia sconosciuta a un grande pubblico.